Williams Renault che ha dedicato la vittoria ad Ayrton Senna, terzo Blandel su Tyrrell, ha deluso la Ferrari, Alessi quarto ma staccato di un giro, Berger tamponato si è fermato per il cedimento del cambio, quinto Martini su Minardi, nel finale è esploso il motore della McLaren di Brandl, l'incendio per fortuna si è spento in pochi secondi. Per questa sera è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento domani, buonasera. ...con persone influenti, in amore, siate più generosi. Cancro, sarete attirati da una persona dei gemelli, fate attenzione, agricoltori, coltivatori e cooperative. Giovedì la giornata decisiva, l'audizione del governatore della Banca d'Italia Fazio, del ministro dell'epicolo sessuale, c'è anche il lavoro minorile, le adozioni, il spianto illecito di organi, la violenza tra le pareti domestiche. ...modificare è un modificare la realtà. E io... E vado di corsa al mare, ma non ricordo più, se ti ho lasciata e... o l'hai fatta... ...ma... ...ha appena chiamato il dipartimento, ci sono delle novità sul caso. ...arrivo subito... ...colorate che possono essere utili a chi ha difficoltà nel mettere a fuoco le diversità dei colori ad una certa distanza, lenti che accettino il contatto, oppure... ...foglia il nuovo catalogo mondo conveniente mobili. Troverai fantastico... ...gli indecili delle cose concrete... ...gli indecili di si vuole a nulla... ...compilation, la compilation hip-hop di Radio DJ, l'unica con Snoop Doggy Dogge, McAvely, Dr. Dre e i più grandi successi hip-hop del momento... ...one to one... ...telefona e potrai conoscerci e parlare come più ti piace... ...potrai divertirti dal vivo e potrai scegliere le tue inibizioni... ...potrai fare o dire... ...oscurano... ...è presto... ...usare una notte gratuitamente oppure un anno a condizioni specialissime... ...e ancora... ...tutto l'occorrente per entrare in internet... ...nel sito speciale del Top Club. ... ...la vita in tutti i sensi... ...e rispecchia nella donna che poi sceglie... ...sempre qualcosa che gli ricordi la madre... ...è proprio tipica... ...questa è proprio... ...debora... ...e adesso comoda... ...scrivi quello che vuoi... ...debora qualche cosa di loro che ti ha colpito sulla lavagna molto rapidamente... ...perché non abbiamo bisogno... ...io credo che veramente questo sia il tappeto... ...più fine, più elegante... ...di questo genere, di questa natura... ...abbiamo delle... ...siamo già 44... ...abbiamo delle... ...di dementi... ...che naturalmente dichiarano con il loro comportamento... ...di essere degli... ...impotenti... ...della gente che non è capace a fare niente... ...invocano la parità dei diritti... ...non è inquadrato... ... bisogna che tu te lo porti... ...e talmente il timido non si fa quadrare... ...ecco... ...abbraccialo bene... ...il re dei timidi... ...è vero... ...quando sono vicino ad un uomo... ...sono timido per forza... ...e che facciamo un po'... ...no... ...è il cambio... ...ascoltiamo un po' di musica che è meglio eh... ...Luca Bergamini... ...è un po' di musica... ...è un po' di musica... ...un po' elettronici... ...un po' pseudo commerciali... ...una visione molto strana... ...un gruppo che mi rimane particolarmente... ...è la sette su novantanove... ...ottanta per sessanta... ...cinquecentomila lire... ...Salvatore Fiume... ...è... ...te c'è grande... ...ma passare... ...te c'è grande... ...espausa... ...pulliamo... Grazie a tutti. La fraternità, diciamo il primo canteo della fraternità, una organizzazione ripetuta. Nel pavolo lungo di Placio Cecicco il salmello di quattro stelle. Possono partecipare ragazzi e ragazze da otto a diciotto anni. I luminetti sullo sfondo del Festival del Cinema in Havana si intrecciano storie, ambizioni, amori e nevrosi. Where I easily adjusted, as far as the legislative scene is concerned, I had a great difficulty adjusting personally. After all, Hawaii is surf and sand and wonderful weather, and here I am in Washington, adjusting to the seasons and hay fever and so forth. And the distance, of course, is tremendous, and my travel back to... Piacere vellutato di un gelato fatto con cura. Un'arte più sapiente, seducente. Dovevo cercare la mia strada. Non dovevo permettere all'amarezza che era in me di condurmi sulla strada sbagliata. Molti come me erano stati travolti da un destino impagabile. Io dovevo essere con loro per aiutarli a sopportare le loro sofferenze. Ma io vorrei vedere qualcosa di diverso. Ma io lo trovo molto elegante. No, no, non va bene. Un signore è alla ricerca di qualcosa di particolare. D'accordo, lo accontenteremo. Un'altra volta e vedremo delle bellissime riprese da Gerusalemme, dal deserto e dal monte dell'olivo. Dell'olivi. E poi vedremo... La richiesta viene dai cambiamenti, da un suo modo diverso di agire. Non ti faccia trovare magari la cena lì e io intanto, mentre tu guardi il telegiornale, o mi alzo, vado e vengo dai forni. La richiesta viene dai cambiamenti, da un suo modo diverso di agire. Grazie. 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 Grazie a tutti. 4,5 cm. La mettiamo in questa posizione perché si possa leggere. Beh, una bella carrellata di spilla. Guarda, è carinissima. ...al decimo del secondo tempo e replica su corner di Rubes due minuti dopo. Carnevale ha riportato in parità l'Italia al ventesimo. Nell'intervallo della gara tanti applausi per Max... ...al decimo del secondo tempo. 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 Grazie a tutti.